Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdizioni a tutti. Quindi, da mercoledì a giovedì potrebbe essere la notte sacra. Tradizionalmente è la notte sacra. Comunque, penso che questa volta sarà veramente questa notte. Ed è sicuramente un buon punto, un momento per restare svegli il più possibile. Quindi, per quelli di voi che non possono farlo in nessun modo, che devono lavorare il giorno dopo, c'è un modo per farlo anche così ed è che andate a letto dopo Isha e vi svegliate se potete quindici minuti prima di Fajjar. E poi pregate due rakat e chiedete quello che vorreste chiedere e quello vi ero raccontato come se fossi stati svegli in intera notte. Per gli altri invece che vogliono restare svegli o che possono stare svegli stella notte, allora fate saci dal più possibile, con la vostra fronte giù verso la terra, e pregate per le persone chiamate, per chiunque abbiate bisogno di pregare. E anche questo sarà un modo in cui puoi connetterti con questa notte. E per gli altri potete vedere anche nel sito internet le cose specifiche da recitare e le preghiere. quindi è anche una sunna di fare Sakatufitte che dovete dare la carità prima che finisca questa luna. In Germania sono 10 euro, in altri paesi potrebbe essere diverso, ma 10 euro è quello che facciamo in Germania. E questo conta per voi se siete single, se siete sposati pagate anche per la moglie, e se avete anche dei bambini pagate anche per i bambini. se invece volete pagare, ad esempio, avete dei genitori che sono morti, e potete farlo anche per loro, è una buona cosa da fare. E se avete il loro nome, date il loro nome. Quindi di base si riguarda cose esteriori queste. L'altra cosa che ci piace dire è che molto spesso nelle nostre vite facciamo esperienza di un punto in cui siamo bloccati, un punto in cui in qualche modo non possiamo proseguire, possiamo andare oltre e andare avanti. quando questo accade c'è una tendenza che o ce ne dimentichiamo o che continuiamo così com'è o che scappiamo dalla situazione perché la sentiamo troppo pesante. E il modo di procedere con queste situazioni è diventare più intimo con te stesso. e questo significa che non diventi più intimo con i tuoi problemi e guardi sempre i problemi come di solito guardi agli altri o alle circostanze. Ma guardi e permetti di vedere te stesso che cos'è che ti fa essere e ti fa bloccare lì. Che cos'è che causa al fiume non continuare di scorrere verso l'oceano, oppure alla pioggia a non cadere giù? Questa è la domanda che ti devi fare. Perché non posso scorrere un po' di più oltre? E vedrete nella notte che è una paura che avete e non c'è nessun sbagliato in avere paura. non vogliamo attraversarle e ottenere la liberazione, giusto? Quindi a volte è difficile per noi vedere noi stessi. e allora se avete un amico, per esempio, o qualcuno di cui vi chiedete che voi chiedete aiuto, questo non è un errore. Non c'è un errore in questo. perché tutti noi abbiamo questo dono di vedere gli altri più facilmente che noi stessi, come dato di fatto. E questo è quello che pensiamo che dovremmo fare sempre, cioè guardare agli altri. Ma dovremmo guardare gli altri solo se ci chiedono aiuto. E altrimenti, in altri momenti, dovremmo guardare a noi stessi. Quindi guardare a voi stessi, osservarvi, non nella situazione o nel problema, ma nel punto profondo dove senti che resisti, questo fa sì che tu non compi una decisione, eppure aver paura di una decisione. Allora devi guardare cos'è di cui hai paura. quando rendi questa una tua abitudine di diventare intimo, quindi vedrai sempre un altro livello di verità, che significa che la cosa che era vera prima per te non è più vera nello stesso modo. A volte accade che sostituisci la verità che avevi prima completamente. Ed è quello che accade che le cose che erano così rilevanti per noi, così importanti, cose di importanza di vita o di morte, possono diventare molto meno importanti se non completamente irrilevanti per noi, che non hanno importanza per noi più. e questo significa arrendersi. Questo è il significato del processo della resa. E questo è uno dei significati del perché noi andiamo… ce ne andiamo da questo mondo. Dobbiamo cambiare corpo. perché non ce ne andiamo dalla vita. La vita è eterna. Non perdiamo la nostra vita. Perdiamo questo corpo e perdiamo tutte le circostanze che abbiamo. e perdendole noi capiremo che queste circostanze non erano veramente importanti. Quindi, quando arrivate a questa realtà dove le circostanze non sono più quello che ti domino, l'età, quella che è la situazione, qualsiasi sia la situazione, e non vi domino più. E allora avete fatto un passo importante. E diventate intimi con l'esistenza. Perché l'esistenza rappresenta questa frase io sono. Io non sono questo, non sono quello. Tu sei quello e questo per un certo tempo. Ma tu sei io sono oltre a tutto il tempo. Questa è la semplice ragione per cui il Divino stesso non è preoccupato riguardo ciò che accade. Perché dimora in se stesso oltre ogni apparenza che ci sono, ogni situazione o accadimento. perché quando vai sempre di più in profondità in te stesso, arrivi in un mondo in cui non c'è nulla rimasto. di quello che possiamo contribuire in questa dimensione. È un'esistenza completamente diversa che non ha nulla a che fare con quello che vediamo e di cui facciamo esperienza adesso. Quindi certo, la rilevanza di questo si ridurrà drasticamente. Siccome gli ultimi dieci giorni del Ramadan sono i giorni della liberazione, ma da cosa dovremmo essere liberati? Questo è di base dalle nostre paure. La paura di non guarire, di rimanere povero, di rimanere da soli o di non raggiungere la destinazione della vostra vita, di trovare il partner, di realizzare la vostra vita. Tutte queste paure sono da questo che cerchiamo la liberazione. E questo è il momento per farlo. Quindi spero che questo vi dia alcuna ispirazione e motivazione. E una notte molto felice e giorni felici. Se non ci vediamo, probabilmente è il caso. Allora una felice per voi. Come un fratello mi ha detto, c'è un tempo per digiunare e un tempo per fare festa. E Allah vuole che noi facciamo entrambi. perché molti di noi abbiamo questa cosa che vorremmo mantenere il Ramadan per sempre. Questo è qualcosa di comprensibile perché il Ramadan è questo periodo di beatitudine in cui possiamo fare cose che non possiamo fare in nessun altro mese e riceviamo dei doni che non riceviamo in altri mesi. E poi c'è il tempo della festa. E Allah vuole vederci felici. E quindi questo è un momento di felicità nel quale dovremmo mostrare la nostra felicità, la nostra gratitudine, e la nostra celebrazione, la nostra capacità di celebrare la vita. Questo è l'hit. e dobbiamo mantenerla. E quindi questo è con i tuoi fratelli. è quello che dovremmo fare in questo momento. Quindi felicità per voi e tutto il meglio. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.